e 1.126 pannarale. Favorevole. La ringrazio. Governo... Un attimo. Allora, colleghi, scusate un attimo, lo dico soprattutto ai relatori. Nel Movimento 5 Stelle mi comunica che c'è stata una segnalazione per errore, cioè è stato segnalato l'emendamento 1.115 a pagina 56 invece dell'1.113 sempre a pagina 56. A questo punto, anche se normalmente non si fa, però invece accogliamo la richiesta del Movimento 5 Stelle e quindi chiede ai relatori di esprimere il parere sul 1.113 a pagina 56 e considerare quindi non più segnalato l'1.115 ma l'1.113. comincerei dal relatore di maggioranza. Stiamo quindi all'1.113 e non 1.115. Sì, Presidente, parere contrario. Grazie. Onorevole Vacca, immagino che il suo sarà un parere favorevole. L'onorevole Pannarale. L'onorevole Pannarale, non le spiego. Il Movimento 5 Stelle ha sbagliato una segnalazione. Ha cambiato una segnalazione. Invece dell'1.115 a pagina 56, segnala l'1.113 sempre di pagina 56. Favorevole. Perfetto. A questo punto anche il Governo, con la modifica che abbiamo fatto, se mi dà il parere. Allora, grazie Presidente, conforme al parere del relatore di maggioranza, l'onorevole Coscia, contrario su tutti gli emendamenti. Grazie, la ringrazio. Allora, colleghi, passerei al primo emendamento che è l'1.4 Marzana. Se non vi sono richiesti... Ah, prego, l'onorevole Marzana. Grazie, Presidente. In questo emendamento parliamo del fondo d'istituto, quindi delle istituzioni scolastiche. Ricordo che il fondo delle istituzioni scolastiche serve per l'acquisto di materiale, per la piccola manutenzione, per retribuire le attività aggiuntive. Parliamo...